Il personaggio d'annunzio mi ha sempre molto affascinato, interessato, quindi dico logico proprio perché è frutto di una curiosità su questo personaggio, su questo uomo, su questo grande e talentoso protagonista del nostro Novecento. E quindi una continua ricerca su appunto il cercare di capire chi era, come veramente sentiva il suo essere, la sua esistenza, d'annunzio che naturalmente, e questo è indiscutibile, una personalità straordinaria.